Un po' in giro per il mondo, mantenendo però sempre forti legami con la tua terra, tant'è che anche i tuoi strumenti, oggi non ci sono tutti, hanno dei curiosi nomi che ovviamente la Sardegna richiamano. Come va Francesco? Tutto bene, per me è ancora una volta un onore essere al primo Maria Carta, quindi tutto made in Sardegna, proprio con una chitarra made in Pozzo Maggiore, quindi... Sì, è una settimana che sto facendo un concerto là, poi torno domani fino a giovedì e poi da venerdì sono un po' in patria, nella nostra Sardegna. Regalaci un po' di sano per il nostro Francesco. Ok, ci proviamo, dai. Grazie, Francesco Pino, grazie a voi. Francesco Pino, grazie a voi. 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 Grazie a voi.